bene possiamo iniziare insomma Tucidide ci riserva sempre delle belle sorprese e questa volta Luciano Canfora coglie una novità di questo storico che gli studenti studiano tranquillamente durante il percorso di studi e insomma come manifestazione importante della storiografia ecco questa volta che succede? Succede che il racconto che ci fa Tucidide del complotto del 411 avanti Cristo ecco raccontandolo nei dettagli ecco ci fa capire come forse la oligarchia prende il potere ad Atene sia pure per un breve periodo e la cosa interessante è una testimonianza Ictu Oculi e questa è la novità che ci dà Canfora quest'anno e il protagonista chi era? Beh ce lo dirà Canfora scioglierà questo enigma e quindi lui con la sua solita verba e la sua capacità di raccontare e anche con la sua grande competenza filologica bene io gli cedo subito la parola e a voi il piacere di ascoltarlo vogliamo accogliere il professor Canfora con vostro grazie l'autore del quale stiamo per parlare gode da ultimo di una straordinaria notorietà anche nella comunicazione giornalistica da un po' di tempo forse un po' meno ma c'è il rischio che torni sempre ad essere citato per i rischi di guerra la trappola di Tucidide questa sciocchezza che campeggia nei giornali ce ne liberiamo subito ma giusto per entrare nell'argomento perché è stato coniato questo termine fantasioso? perché nello scacchiere del Pacifico c'è un costante rischio di guerra tra due potenze non confinanti ma rivali che sono la Repubblica Popolare Cinese e gli Stati Uniti d'America qual è la trappola? La trappola è che se un conflitto locale coinvolge man mano grandi potenze si giunge ad un conflitto generale, un conflitto incontrollabile di dimensioni appunto sempre maggiori l'archetipo di ciò sarebbe lo scoppio del conflitto tra Sparta e Atene suscitato da conflitti locali in cui la grande potenza, una delle due grandi potenze nella fattispecie Atene si lascia coinvolgere e come in un domino irrefrenabile il conflitto si allarga perché dicevo che è una banalità che rilancia il nome di Tucidide perché si potrebbe dire che anche la prima guerra punica è scoppiata su una dinamica simile e se vogliamo anche la seconda guerra mondiale parte da Danzica morire per Danzica la domanda di un celebre articolo che cercava di scoraggiare le potenze occidentali dal conflitto ma Tucidide non si definisce mai pur parlando di sé più volte nella sua opera come uno storico usa un termine neutrale definisce la sua opera una siungrafè usa il verbo siungrafo che vuol dire comporre in prosa anziché in versi in modo il più possibile preciso siungrafo, il verbo composto però nella tradizione successiva esercita un'influenza enorme se pensiamo che già poco dopo la sua morte che dovrebbe essere avvenuta all'inizio del IV secolo a.C. ci sono autori che continuano, proseguono la sua opera continuatori di Tucidide cioè che riprendono il racconto da dove egli si era interrotto ci sono vari aspiranti a questo ruolo di continuatori noi abbiamo l'opera di Senofonte che si chiama, intitolata nella tradizione manoscritta ellenica che vuol dire storia greca storia del mondo greco fatti riguardanti la Grecia a rigore ellenica sappiamo però che un autore se vogliamo più prolifico secondo alcuni anche più profondo di Senofonte cioè Teopompo del quale non sappiamo bene quando è nato ma era alquanto più giovane comunque di Senofonte anche egli ha ripreso il racconto Tucidideo rifacendo quello che già si leggeva nell'opera di Senofonte quindi in polemica nei suoi confronti con storie generali storie del mondo greco ellenica per l'appunto quindi mentre Tucidide si concentra sul racconto di un determinato avvenimento che gli cresce tra le mani mentre lo racconta quindi una monografia potremmo dire coloro che lo continuano lo continuano con una storia generale ma questo perché? perché nel corso della ricostruzione si usa dire ora in tempo reale dei fatti di cui Tucidide è spettatore e attore nel corso stesso di questa scrittura parallela agli avvenimenti nel loro svolgersi questi avvenimenti si dilatano ad una area sempre più vasta tant'è vero che poi nella pagina iniziale della sua opera scritta forse molto dopo da lui medesimo come spesso succede per le prefazioni Tucidide scrive che questa guerra è la più grande che sia mai avvenuta quella che lui ci racconta perché coinvolse la gran parte degli uomini è vero se pensiamo alla fase finale di quel conflitto che ha coinvolto non soltanto la Grecia continentale le maggiori città di essa schierate su opposti versanti ma anche la Sicilia la più grande potenza siciliana cioè Siracusa e anche importantissimi e potentissimi satrapi persiani tutto sommato a longa manus ciascuno di loro del gran re di Persia per cui lo scacchiere diciamo diventa l'intero Mediterraneo da occidente a oriente e le potenze coinvolte sono le grandi potenze del tempo quindi è una guerra mondiale alla fine quella incominciata per il decreto su Megara con cui Pericle vuole punire il commercio peloponesiaco mettendo il blocco sulle merci quindi una contesa molto delimitata che diventa una guerra mondiale ecco perché poi i continuatori dell'opera sua hanno preso le mosse da un orizzonte geografico politico vastissimo dando vita ad un genere letterario quello appunto della storia generale che non è mai poi veramente monografica ma segue se vogliamo il ciclo delle egemonie storie apparentemente universali o generali che però hanno sempre un focus un epicentro intorno alla potenza dominante il grande problema di come conciliare monografia e storia generale che nasce proprio dentro questo laboratorio aperto che è l'opera Tucididea ma come ho detto in principio quest'uomo non si considera in primis uno scrittore di storia è un veicolo politico uno strumento quello che lui adotta ed è in primo luogo invece un uomo versato nella prassi su due lati potremmo dire su due aspetti ben distinti ma convergenti perché lui è l'appaltatore delle miniere d'oro che Atene ha conquistato prima occupando l'isola di Taso e poi la costa Trascia antistante lui è il figlio discendente di una famiglia politicamente molto rilevante imparentato con Cimone figlio a sua volta di Milziade quindi la famiglia avversa Pericle agli Alcmeonidi siccome sappiamo che ha fatto lo stratego le cariche ateniesi non sono tutte elettive come pensano gli ingenui non sono perdono non sono tutte sorteggiate come pensano gli ingenui ma alcune sono elettive quelle più importanti la strategia il comando militare ogni tribù elegge uno stratego siccome lui si è presentato alle elezioni per farsi eleggere stratego e c'è riuscito è stato eletto stratego per l'anno 424-23 è un uomo che vuol fare politica che ritiene quello un obiettivo importante il fatto che lui sia parte di un genos di una famiglia potente e politicamente schierata rafforza l'impressione che questa scelta non sia una scelta effimera di un capriccio temporaneo è uno degli obiettivi principali della sua politeia del suo essere cittadino e il fatto che Atene si fidi di lui della sua famiglia per l'appalto delle miniere che lui si impegni in politica e divenga stratego comincia a darci un quadro un po' più completo della sua persona e dei suoi obiettivi dei quali obiettivi lui parla una pagina famosissima di quella ampia introduzione al primo libro quando dice che non gli interessa il successo effimero usa delle parole che sono state sempre molto studiate commentate agonisma esto paracrema cioè una gara che ha un obiettivo immediato di un successo immediato colpisce la parola agonisma perché allude non a una fruizione solitaria di una lettura domestica ma ad una fruizione pubblica come certamente è stato per Erodoto le cui letture o recitazioni in pubblico di parti della sua opera sono documentate da Erodoto medesimo quindi gli dobbiamo credere al di là del fatto che poi autori tardi parlino ampiamente di questo Luciano di Samosata dice che le storie di Erodoto venivano cantate a Olimpia durante le paneggiureis in occasione delle Olimpiadi non so se venissero cantate usa proprio il verbo adein ma Erodoto dice di sé quando ho detto una certa cosa che in Persia si prospettò l'instaurazione della democrazia non mi hanno creduto quindi allude a una pubblica lettura di cui Erodoto lamenta che in quel caso non c'è stato un consenso da parte del pubblico che è un pubblico molto attivo un pubblico reattivo Tucidini invece in quella pagina dice non mi interessa il successo nella contesa nella gara avente come mira l'immediatezza dell'applauso l'agonisma e setopara crema ma quest'opera è stata scritta lui dice Siun Kei Tai è stata composta come una acquisizione perenne il famoso ctema eis aiei no? è talmente tante volte ripetuta questa formulazione da avere perso credo io il peso allarmante di una tale dichiarazione certo uno può pensare al famoso autoelogio di Orazio quando parla delle sue poesie liriche che dureranno ere perennius e va bene però se noi consideriamo il tipo di opera alla quale Tuscidide preconizza una tale durata nel tempo ribadendo nello stesso contesto che saranno i politici delle generazioni seguenti che caveranno un frutto da quest'opera perché la natura umana è sostanzialmente stabile e quindi avverranno fatti uguali osimili se si considera tutto quel contesto e soprattutto la presa di posizione non mi interessa il successo immediato perché quest'opera durerà viene in mente il ritratto che Tuscidide medesimo delinea di un personaggio del quale ora parleremo più diffusamente Antifonte Ateniese a giudizio di Tuscidide mente direttiva dell'avventura oligarchica della presa del potere da parte di una minoranza organizzata e quindi dice direbbe Gaetano Mosca irresistibile perché una minoranza organizzata è irresistibile rispetto ad una maggioranza dispersa frantumata viene in mente leggendo questa profezia sulla durata eterna dell'opera sua il modo in cui lui tratteggia Antifonte Antifonte lui dice rivelando ai lettori il ruolo occulto segreto arcano di mente direttiva del colpo di stato chiamiamolo così un po' alla buona ritratto di un uomo come dice Tuscidide che rifugge dall'assemblea rifugge dal tribunale non si presenta usa proprio il verbo presentarsi che vuol dire salire sul bema e mettersi a parlare all'assemblea popolare che è l'organo decisionale della democrazia ateniese cioè Antifonte è guardato con sospetto dice Tuscidide in quella pagina del libro ottavo quando lo lo rappresenta lo esalta era guardato con sospetto perché considerato troppo bravo e allora non si sprecava affrontare la bestia dalle cento teste diciamo così dell'assemblea dinanzi alla quale bisogna essere un po' demagoghi un po' corrivi non dire la verità e lui esalta Pericle perché dice la verità controcorrente in un'altra pagina della sua opera il parallelo che viene spontaneo leggendo le due pagine quella in cui parla di se stesso spregiatore della contesa pubblica della gara in pubblico alla maniera di erodoto ma sicuro di un successo nel tempo avvenire è la pagina in cui esalta questa caratteristica di antifonte che preferisce da lunga pezza ec place tu da moltissimo tempo quindi non è un progetto nato a ridosso della sconfitta in Sicilia è un progetto che covava nella mente di antifonte da moltissimo tempo ec place tu e che non si sporca le mani ad affrontare la quotidianità dell'assemblea aspetta il momento in cui agire è possibile organizza e questa minoranza organizzata alla fine prevale insomma è una sorta di doppio l'antifonte come lui ce lo rappresenta rispetto a Tuscidi de' medesimo nel suo agire attraverso l'opera narrativa che ricostruisce una vicenda politico-militare in quanto modello in quanto libro guida per la politica futura poi certo è un'opera di racconto storiografico anzi nel capitolo ventiduesimo del libro primo sempre in questo contesto iniziale Tuscidi descrive anche come ha lavorato come si è cimentato con la difficoltà di credere alle testimonianze ovviamente tra loro contraddittorie quando non ha potuto essere presente di persona cosa che ovviamente con un avvenimento che gli cresce tra le mani che si dilata geograficamente era sempre più difficile non poteva non poteva essere presente contemporaneamente negli stretti dei Dardanelli a Siracusa a Mantinea a Delion ad Anfipoli uno scacchiere grandissimo ha molto viaggiato certamente sì i moderni si rassegnano ad ammettere che tutto il racconto amplissimo dell'assedio di Siracusa da parte di Atene 415 413 avanti Cristo è autoptico non solo è autoptico ma dal campo atenese non può non essere lì il narratore di tutti i dettagli riguardanti particolari anche minuti il terreno scivoloso quando si deve attraversare un certo ponte senza farsi vedere dal nemico dettagli anche minimi dal campo atenese ha fatto un grande sforzo autoptico ma ovviamente ha dovuto anche credere a testimonianze e allora si è sforzato di metterle a raffronto la tradizione biografica tardiva che noi abbiamo in uno scritto curioso di un tale che si chiamava Marcellino o Marcello secondo alcuni ma forse Marcellino quinto secolo dopo Cristo forse scuola di Gaza siamo in un'epoca di grande cultura ma proto-bizzantina nove secoli dopo una distanza notevole ecco questa tradizione biografica si nutre di informazioni precedenti si nutre certo di erudizione alessandrina e quindi facciamo un bel balzo all'indietro gli alessandrini non si sono occupati subito di prosa hanno cominciato con la poesia a studiare i testi che arrivavano ad Alessandria d'Egitto però insomma già Aristarco commentava Omero quindi diciamo secondo avanti già si è formata Didimo certamente ha scritto un perito chiudidu un libro sottucidide e Didimo è primo avanti Cristo quindi da Marcellino si fa un balzo all'indietro tuttavia tradizione tardiva rispetto al quinto secolo avanti Cristo o inizio quarto questa tradizione legge in Tucidide questo mirabile capitolo sul raffronto delle testimonianze e immagina una cosa curiosa la moglie era ricca la moglie di Tucidide ma noi non sappiamo chi fosse in realtà e allora lui ha dissipato in certo senso le sostanze di Costei pagando i soldati sia spartani che ateniesi per avere testimonianze dirette e metterle in raffronto insomma ha dilapidato la dote Uxoria per fare a noi un piacere cioè per darci un racconto il più possibile veridico sembra un'invenzione simpaticamente affettuosa ma è il segnale di come nella tradizione erudita venisse percepito questo elemento che Tucidide descrive brevemente con una parola famosissima Zetesis Aleteias la ricerca della verità e Tucidide si sforza di farci credere che tutto ciò che egli racconta è vero non ci descrive caso per caso come ha messo a raffronto le varie fonti una volta per tutte dice di averlo fatto e noi gli crediamo ci dà il risultato il risultato è la verità e ora pensiamo all'audacia di un autore uno scrittore per quanto di prestigio il quale garantisce che ciò che dice è vero Erodoto dice mi hanno riferito questo non è mio dovere crederci però ve lo riferisco quindi è quanto mai laico rispetto alla qualità delle informazioni magari non ha fatto quello sforzo straordinario volta per volta che Tucidide dichiara di aver fatto ma anche questa pretesa di assoluta verità proprio l'ingotti d'oro di verità che lui ci dà si apparenta con quell'altra non meno forte pretesa di durata eterna della sua opera e si apparenta anche con la sua nascita di alto lignaggio in una famiglia che vive malvolentieri l'esperienza democratica mi sono soffermato su questi lati perché tendo nei limiti del possibile e soprattutto della documentazione nostra disponibile a dare un ritratto realistico della persona con cui abbiamo a che fare fonda dicono i posteri già subito la storiografia scientifica ma il suo fine è la azione politica è la riflessione sulla politica il grande tema che attraversa quest'opera otto libri della divisione alessandrina perché è finito l'impero ateniese questo è il tema di tutta l'opera e in che misura il sistema democratico assembleare che alimenta l'impero è il miglior sistema politico possibile o ci sono alternative a quel modello le due cose si annodano esattamente nella vicenda dell'anno al quale Tuscidide dedica una narrazione amplissima un libro dentro il libro l'ottavo metà dell'ottavo si annoda la questione modello politico la questione impero qual è la storia che è bene rievocare velocemente l'abbiamo già detto c'è chi come antifonte sceglie di non cimentarsi nella lotta politica quotidiana ma aspetta il momento per agire e c'è chi invece si cimenta la democrazia ateniese forse non soltanto quella è di fatto un regime dominato da una elite noi teorici moderni ho citato Gaetano Mosca potremmo citarne altri ma a Torino è giusto citare Gaetano Mosca non è stato un insigne docente dell'università di Torino sostengono che la ferrea legge delle oligarchie comporta che qualunque sistema politico di fatto sia diretto da una elite organizzata e capace però ad Atene si divide fra quelli che accettano la sfida assembleare perché pensano di poterla dominare o comunque guidare Pericle e quelli che invece aspettano il momento di agire Tucidide è al crocevia perché fatto stesso che si è presentato alle elezioni per farsi eleggere Stratego e si è impegnato molto nella campagna nella Grecia del nord intorno al fiume Strimone dimostra che non ha scelto di ritirarsi in attesa dell'ora X però quando l'ora X arriva egli definisce la azione svolta dai leader oligarchici mega ergon una grande opera e anzi soggiunge che soltanto persone di alta capacità e valore Xionetoi come erano questi uomini Antifonte Teramene Frinico avrebbero potuto realizzare l'impossibile cioè come lui si esprime togliere la libertà usa proprio la parola eleuteria al popolo ateniese dopo cento anni la datazione è dalla cacciata dei figli di Pisistrato di Ippia che peraltro non era merito degli atenesi ma degli spartani aver cacciato Ippia da Atene era mega ergon era una grande opera togliere la libertà al popolo di Atene dopo cento anni dalla cacciata dei tiranni e poi soggiunge maliziosamente metà dei quali anni il popolo ateniese li aveva impiegati per togliere esso la libertà agli altri attraverso lo strumento dell'impero e l'impero è figlio legittimo del sistema democratico forse sì anche in Aristofane un passo famosissimo delle vespe si mette in luce che il foros il tributo la ricchezza che arriva dagli alleati ormai sudditi è lo strumento che consente a 20.000 ateniesi di vivere di politica o comunque di vivere non del proprio lavoro o comunque non praticandolo in modo sistematico perché c'è una assistenza da parte dello stato ateniese che consente al cittadino non possidente di svolgere il mestiere di cittadino poi in Aristofane c'è una frecciata pesante ma vi danno le briciole perché poi i potenti sono quelli che prendono il maggior frutto dall'impero comunque l'impero in quanto sfruttamento degli alleati e Aristofane lo ha messo in ridicolo nei babilonesi la commedia che non abbiamo in cui raffigurava gli alleati come schiavi che muovono ridotti come dire a far muovere le mole di un mulino quindi una condizione pessima se l'è vista brutta per aver fatto questo questa frecciata contro l'impero l'impero è il veicolo del benessere medio del cittadino democratico però come Aristofane dice in questo passo delle vespe quando dice però i frutti più grandi ce li hanno i signori i grandi nel raccontare la genesi del colpo di stato del 411 Tucidide fa dire ad un personaggio chiave frinico la stessa cosa ed è la pagina se vogliamo più importante di quella lunga narrazione di come si instaurò l'oligarchia atenese quando il frinico in una seduta segreta dei golpisti seduta della quale Tucidide sa tutto quello che fu detto le obiezioni furono sollevate frinico interviene e mette in guardia attenzione cambiare il regime politico si abbiamo la forza per farlo entra in crisi l'impero è un'illusione quella che voi gli altri complici nutrite cioè che si possa instaurare analogamente nelle città alleate suddite un regime oligarchico analogo a quello che noi stiamo per creare perché a quel punto l'impero si disfa e ricordatevi dice frinico quello che è stato chiamato il paradosso di frinico che noi siamo i principali fruitori dell'impero che è la stessa cosa che si legge in quella pagina prima ricordato delle vespe antifonte mente segreta artefice remoto rivelazione di un arcano sedute segretissime in cui si organizza la trama e poi nel seguito una narrazione minuziosa dei dibattiti al chiuso all'interno del buleuterion o la descrizione quasi filmica di come vennero cacciati dalla sede del consiglio del buleuterion i legittimi buleuti dai golpisti che danno loro sprezzantemente quanto avanza del salario e li fanno uscire uno per uno dal buleuterion umiliandoli ecco tutto questo leggiamo in un racconto analitico rivelatore partecipe perché ci interessa molto questo per molteplici motivi quello più immediato se vogliamo è il regalo che ci viene fatto da questo autore molto criticato sul piano stilistico qual è Tucidide di un libro imprevisto il suo tema era la guerra e invece dentro questo racconto della guerra c'è un altro libro che racconta una tappa della politica interna una vicenda tutta interna che è di fatto un racconto a sé quindi un effetto diciamo di questo essere presente di aver partecipato assistito seguito e aver prodotto un racconto che altrimenti non avremmo mai avuto bastava una pagina per dire che nei quattro mesi in cui il gruppo di oligarchi prese il potere Atene perse l'Eubea e questo determinò il crollo dell'oligarchia bastavano poche frasi per raccontare la vicenda invece Tucidide ci dà 50 capitoli cioè ci dà un libro intero perché percepisce l'importanza di questo ma soprattutto lo racconta mentre i fatti avvengono l'altro elemento rilevante è un'esperienza che lo costringe a riflettere sul tema principale che ho prima ricordato l'impero e il suo legame col sistema democratico egli vede concretamente che la nascita sia pure temporanea di un'oligarchia dopo 100 anni di regime chiamiamolo democratico l'impero entra in crisi precipitosa perde addirittura il pezzo più pregevole cioè l'isola dell'Eubea come dice lui stesso quando racconta la defezione dell'Eubea era di lì che ci veniva il grano quindi era una catastrofe e poi le defezioni a catena degli altri alleati quindi democrazia in crisi impero che si disfa e terzo motivo qual è il miglior modello politico perché in ultima analisi se ben riflettiamo il problema dei problemi di questi intellettuali greci chiamiamoli così con un termine moderno intellettuali ateniesi pardon non greci qual è il miglior sistema politico non parlano di altro o in forma diretta Platone Aristotele o in forma storiografica Erodoto Tucidide soprattutto o attraverso la scena tragica di che cos'altro parla Euripide quando mette in scena o il tiranno o l'araldo tebano che dialoga con Teseo nelle supplici ma anche se vogliamo il grandissimo Eschilo nell'unica trilogia che abbiamo che culmina con la scena in sostanza della riforma di Efialte che toglie agli areopagiti il potere usurpato dopo le guerre persiane riportandoli soltanto ai reati di sangue tutti questi intellettuali non fanno che riflettere sul problema qual è la migliore forma di governo e nelle pagine scritte si usa dire in tempo reale un'espressione che si usa molto spesso Tucidide nei quattro mesi in cui ha assistito a questa avventura mega Ergon il bilancio che lui cava è che l'estremismo di una persona che lui ammira Antifonte soprattutto l'estremismo loro di abrogare completamente il diritto di cittadinanza ai non possidenti promettendo un diritto di cittadinanza più ristretto 5.000 soltanto opla pare come noi ma addirittura neanche quelli perché poi i 400 la lista dei 5.000 non l'hanno mai tirata fuori il bilancio che lui trae è che quell'estremismo ancorché grande già per l'impresa compiuta fallisce e che forse la migliore forma da lui vista in vita sua in Atene è stata quella del sistema misto in cui i pochi e i molti si conciliano in una mescolanza lui usa proprio questo termine mixis che gli vede realizzato ma in realtà effimero ad opera di un abilissimo artefice del colpo di stato ma tempestivamente sganciatosi quale Teramene che troverà poi in Aristotele nella Costituzione degli Atenesi un difensore strenuo il vero buon cittadino Teramene perché è colui che asseconda un sistema politico finché non commette colpe ma non appena commette colpe se ne discosta è una voce isolata quella di Aristotele nella Costituzione degli Atenesi in pro di Teramene che invece di solito ha demonizzato come l'emblema dell'opportunismo ma si è fermato davvero su questa presa di posizione tucidide quella del capitolo 97 del libro ottavo dove fa l'elogio appunto della mescolanza molti pochi la mixis no non si è ma intanto per una ragione vi sarà ormai chiara dalle disordinate considerazioni che ho fatto finora che cioè lui ha visto anche l'epilogo di quella straordinaria esperienza di buon governo e e lui dice a mia esperienza si sono ben governati quando hanno mescolato i due modelli i pochi e i molti ma non si è fermato lì intanto perché quell'esperimento è fallito quindi la dura lezione della storia come si dice ha liquidato l'esperienza ed è Teramene stesso che l'ha buttata a mare e si è riconciliato col sistema democratico facendosi amico al Cibiade che ritorna in Atene quasi da trionfatore e si è convinto credo alla fine della sua riflessione su questa vicenda che come vedete diventa una riflessione politologica in primis che utilizza il racconto dei fatti si è convinto alla fine che la democrazia solo a parole può essere accettata ma di fatto deve essere guidata da una personalità eminente che lui riconosce ormai vent'anni dopo la morte trent'anni dopo la morte di Pericle in Pericle l'opera Tucididea è come ho detto al principio un cantiere aperto per fortuna in certo senso vediamo l'impalcatura vediamo le lacune vediamo la provvisorietà di tante stesure e quindi anche le contraddizioni tra un punto e l'altro di un'opera che è stata scritta almeno nel corso di trent'anni per il fatto stesso che la guerra è durata ventisette anni lui dice di sapere come essa è finita quindi è vissuto sicuramente fino all'epilogo di quel conflitto ventisetteennale ma dice anche di aver capito la gravità di ciò che stava per accadere alquanto prima dello scopo del conflitto quindi è un Lebenswerk è un'opera di tutta la vita e nessuno rimane dello stesso parere con le stesse convinzioni a fronte della realtà effettuale che cambia per trent'anni quindi contraddizioni sì certamente ma dentro un'esperienza di vita che corrisponde che coincide con l'esperienza della scrittura di quest'opera ma l'aver capito questo è in certo senso anche essere tornato ad un'idea elementare di buon governo che coincide col buon princeps lui non usa il latino non aveva fatto il classico quindi non conosceva il latino ma usa una perifrasi il protos aner l'arche è una circolocuzione per dire quello che in latino si dice princeps intendendo ottaviano che diventa augusto ed è restaura la repubblica ma comanda lui no infatti cicerone nel della repubblica dove sogna il princeps se lo immagina qualche volta ha pensato che lui stesso poteva esserlo parafrasa quelle parole che tu ci dite ad opera per descrivere Pericle quindi lui torna attraverso questo cammino si impegna in politica gli va piuttosto male abbraccia la causa degli oligarchi ne vede il fallimento spera nel regime misto poi alla fine rifluisce nell'idea che il princeps risolve il problema politico che forse è insolubile e però vede in antifonte la tradizione antica si era convinta che antifonte fosse stato il suo maestro forse vero forse no vede in antifonte la figura positiva cioè quello che rifiuta la demagogia come tale mentre il grande Pericle scende a patti con la demagogia Ducidide quando parla di lui dice che guidava piuttosto che essere guidato dal demo parlava controcorrente e questo già è molto no perché di solito l'oratore demagogicamente asseconda il suo pubblico no che l'obiezione dell'araldo Tebbano attese la democrazia cosa orrenda perché comandano i demagoghi i quali devono assecondare il loro pubblico non hanno nessuna funzione pedagogica Pericle parla controcorrente però deve tener conto dell'assemblea quindi guidava piuttosto che essere guidato antifonte no antifonte rompe con quella realtà e si convince di potere con la forza di una elitta organizzata dominare la macchina politica ma finisce processato e condannato a morte dai suoi stessi compagni di avventura Teramene in primis però gli crea un monumento questa pagina in cui descrive il suo modo di essere di operare la sua grandezza la sua lungimiranza politica è un monumento ad antifonte il cui tratto antipopolare come ho detto prima ritroviamo nella scelta antipopolare di Tucidide di non cimentarsi nell'agonisma esto paracrema convinto che sarà eterno quello che lui fa ma questo antifonte che personaggio misterioso per noi per una ragione anche banale che cioè il nome proprio antifonte è molto comune in Attica e quindi avendo noi una biografia di lui nel raccolta pseudo-plutarchea delle vite dei dieci oratori avendo di lui un gruppo di orazioni giudiziarie un corpus piuttosto consistente di orazioni giudiziarie e notizie erudite è un frammento papiraceo importantissimo di un'opera filosofica di lui o di uno che si chiama Avantifonte per i aleteias questo termine Tucidideo la verità che non è da trascurare siamo costretti a porci la domanda insolubile se si tratti della stessa persona non vi affliggerò con questo un mio carissimo amico e professore di storia romana quanto più vecchio di me Leandro Polverini ironicamente dice dall'alto dello studio del mondo tardo antico voi con i vostri problemi insolubili non voi che vi occupate di storia greca arcaica insolubili per mancanza di documentazione ovviamente io credo senza affliggervi con i dettagli che sia piuttosto ragionevole ritenere che l'oratore il sofista il politico siano la stessa persona Antifonte e quindi parto dal presupposto non io soltanto che questo per i aleteias questo trattato sulla verità di cui sapevamo ma che ci è poi noto per brandelli papiracei trovati e pubblicati molto bene nella raccolta dei papiri di Osirinco sia il protagonista al quale Tucidide dedica quel monumento bene in questo scritto per i aleteias e forse esiste la provvidenza dei papirologi forse sì non sappiamo perché ci ha regalato la provvidenza dei papirologi proprio il brano in cui l'autore demolisce l'idea della diseguaglianza umana e afferma con forza e con violenza polemica l'uguaglianza di tutti gli esseri viventi greci o barbari e noi greci che ci consideriamo superiori ai barbari siamo più barbari dei barbari perché gli esseri umani sono tutti uguali biologicamente tali e questo suscita una domanda il leader dell'oligarchia che non affronta l'assemblea perché è guardato con sospetto dal demo e non vuole cimentarsi demagogicamente col demo è la stessa persona che afferma l'uguaglianza umana che vuol dire greco barbaro ma ipso facto schiavo libero perché gli schiavi sono in gran parte dei prigionieri per lo più non greci non c'è una contraddizione in questo in realtà perché il regime che lui detesta e contro il quale si è impegnato con successo sia pure effimero è bensì un regime di uguaglianza all'interno dei cittadini liberi pleno iure cittadini minoranza politicizzata che domina l'assemblea i non possidenti che finalmente perché c'è l'impero possono fare politica tutti i giorni ricoprire cariche fare i giudici popolari ma è una minoranza che vive alle spese non soltanto degli alleati sudditi ma degli schiavi che lavorano per loro il buon Lisia il famoso suo discorso dice non c'è un poveraccio ad Atene che non abbia almeno uno schiavo e nel Pluto di Aristofane non è una commedia particolarmente riuscita ma è molto importante per i contenuti e per l'epoca in cui è stata composta e messa e portata in scena presenta protagonista che disperato perché la povertà lo opprime la ricchezza è cieca e però è seguito da uno schiavo e da un altro anzi lo schiavo a lui più vicino tra gli altri suoi schiavi quindi un poverissimo ha almeno due o tre schiavi questo significa che davvero quel demo politicizzato protagonista della democrazia ateniese che dà filo da torcere ai grandi come Pericle o Alcibiade è un ceto minoritario numericamente è privilegiato quindi la polemica di Antifonte in pro dell'uguaglianza umana è una polemica contro quella aristocrazia un po' allargata diceva Tocqueville che è il demo di Atene onnipotente nel suo egoismo imperiale e imperialistico naturalmente Antifonte non si batteva per il potere popolare si batteva per il potere dei competenti degli beneducati di quelli che hanno una formazione perché la loro condizione familiare intellettuale eccetera li ha resi capaci e quindi espropria anche il demo che ritiene inetto di un potere abusivo in pro di un potere molto più ristretto quindi non è inconciliabile quella sprezzante polemica contro l'egoismo del demo che si considera anche razzialmente superiore rispetto ai barbari e che monopolizza il potere è una polemica che fa da pandane che completa quella che per Antifonte e per gli uomini come lui come Crizia come altri è la via giusta cioè espropriare il demo incompetente e onnipotente di un potere abusivo e darlo soltanto ai competenti ma se noi pensiamo che tutta la tradizione filosofica a partire dalla critica socratica al sistema politico atenese nei limiti in cui ci è nota da Platone e poi attraverso il corpus platonico e poi attraverso i contorcimenti delle elezioni di politica di Aristotele racchiuse dentro i libri appunto intitolati Politica ci rendiamo conto che il filo conduttore è sempre quello la critica di un potere abusivo di una massa popolare relativamente ristretta che domina indipendentemente dalla sua capacità di governo in questo senso Tucidide presente ai fatti che racconta partecipe degli obiettivi che questi oligarchi hanno perseguito e anche partecipe di quella critica al sistema politico atenese che sforcia come ho detto poco fa al termine presumiamo del suo cammino intellettuale in una soluzione se vogliamo illusoria il buon princeps quindi è una opera aperta diciamo così ultimo dettaglio ma questo lo metto veramente in coda perché a rigore ha un'importanza molto relativa quello che ho cercato di dire un po' divagando un po' riacciuffando il filo porta a concludere che nell'anno 411 così come sulla flotta atenese davanti a Siracusa Tucidide è presente è lì e questo mette in crisi la biografia tradizionale che nasce dall'interpretazione di una pagina sulla quale non possiamo ora soffermarci del quinto libro dalla quale pagina già la tradizione antica e poi moderni ovviamente cosa più che legittima hanno ricavato l'idea che dopo l'anno della sua carica come stratego egli si sia o autoesiliato o sia stato condannato come molti pensano all'esilio per vent'anni quindi non sarebbe dal 423 in avanti non è mai presente in Atene e nemmeno in campo atenese e a maggior ragione nemmeno sulla flotta atenese per la gran parte della guerra che racconta e che racconta sempre dal punto di vista atenese direttamente dall'interno della politica atenese quindi c'è una contraddizione che si risolve probabilmente interpretando meglio quella pagina nella quale si parla di colui che scrive parla di un suo esilio di un suo essere lontano da Atene veramente lui dice Feuge in Tenemautu la mia terra per vent'anni quindi non so se abbia senso dire mi pare che la tradizionale biografia di quest'uomo vada riscritta vada ritoccata in questo punto che è spesso diventato il punto centrale della ricostruzione moderna ma questo forse è meno importante è più importante che abbiamo davanti nella fortunata situazione di possedere quest'opera poteva anche andare persa l'autore non era ben visto coloro che ne parlano indirettamente senza mai citarlo lo citano per criticarlo Isocrate Platone lo stesso Aristotele nella politica e nella costituzione di Atene quindi rischiava anche di essere uno di quegli autori da rifiutare invece ci è arrivato ed è un pezzo vivente dell'agonia del sistema politico atenese democratico e imperiale grazie